Un fatturato 2019 in forte crescita e un 2020 che promette altrettanto bene. Un riposizionamento e una nuova corporate identity che raccontano un modo innovativo di fare agenzia. Connexia, società di marketing e comunicazione, arriva da anni di cambiamenti e ora consolida questo percorso proponendosi come un nuovo modello capace di coniugare dati, creatività, media e tecnologia. Ne abbiamo parlato con Paolo D'Amassa, amministratore delegato e founding partner di Connexia. Siamo cresciuti tantissimo in questi anni e ogni anno siamo stati un'agenzia diversa. Perché? Perché il mondo della comunicazione è un mondo in profondo cambiamento e anche molto veloce. Quindi è importante evolversi e cambiare e questo è stato anche un nostro fattore chiave di successo. Oggi siamo un nuovo modello d'agenzia che integra la creatività, i dati, la tecnologia e il media e lo fa con amore e con passione. Per raccontare questo rebranding, Connexia ha scelto un nuovo logo affiancato per la prima volta da un simbolo e un claim che sintetizza la nuova identità, Creativity in Love with Data and Technology. Ma dietro questo cambiamento c'è prima di tutto il fattore umano come è emerso a più riprese durante l'evento milanese di presentazione. Oggi il livello di complessità dei progetti è veramente alto e quindi ci vogliono tante persone al tavolo che devono collaborare tra loro, lo devono fare con amore e con passione, passione verso le competenze, passione verso l'esterno, verso i clienti ma anche verso l'interno e questo è veramente una delle chiavi di successo per poi far girare la macchina come si deve. E visti i risultati delle operazioni strategiche messi a segno nell'ultimo anno, la macchina sembra girare bene come ci conferma Marina Salamon, presidente e azionista di maggioranza di Connexia. Il 2019 ha portato una crescita del 38% grazie a una crescita interna e all'acquisizione e fusione di Ragù che è la nostra nuova divisione media con i soci di Ragù che fanno parte della compagine di Connexia adesso. La crescita nel 2020 continuerà a double digit, ovviamente non è possibile riprodurre in termini percentuali questa performance ma stiamo certamente superando i 20 milioni e andando molto oltre. L'inizio di questo 2020 appare promettente visto che Connexia è in pol per aggiudicarsi anche a una gara della regione Puglia ma che crescita sarà quella che l'attende nel 2020? Certamente crescita organica, in quanto alle acquisizioni noi siamo aperti ma non vogliamo duplicazioni siamo anche molto attenti ai valori umani delle persone che guidano le società ad acquisire. Conosciamo la fatica di integrare in ogni passaggio e non si fa strettamente sulla carta e sui numeri, si lavora insieme alle persone. Per ora invece è escluso la Prodo in Borsa. Non si gioca con le quotazioni giusto per mettere soldi in tasca o per coprire dei debiti che noi non abbiamo quindi il problema non si pone. No, valuteremo i percorsi migliori nel lungo periodo di integrazioni eventuali o di sommate ad acquisizioni o altro. Quello però che ci deve guidare non è una logica speculativa. Bisogna usare le leve della finanza ma non essere prede e non essere affamati. Come dire, ci si sposa quando si è molto convinti, altrimenti non si va.